Musica Colletti francesi, colletti italiani, bottom down, twill, oxford, popeling Cosa sto dicendo? Sto parlando delle camice Perché sono qui con Fave che si occupa appunto di camice su misura Sono qui nel suo a serie per parlare appunto della scaramanzia legata anche a questo mondo Allora tu che fai camice Fabrizio? Quale colore non consiglieresti? Non so per un matrimonio? Ma magari una camicia viola o una cravatta viola Neanche il verde che in questo periodo non va tanto bene Quindi io vedo qui una camicia verde magari no Ecco magari in un matrimonio no, quindi allora in un matrimonio no camicia viola No cravatta viola Nel dubbio anche la camicia verde Bene, dall'atelier di Fabrizio Da Fabri Camice Acuneo Sara Saglietti e Fabrizio vi salutano Ciao a tutti Musica 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 Musica